In tutte le altre situazioni esiste dall'intelligenza del territorio, vogliamo sì, nei limiti del possibile, tentare di mettere in regio tutte le opportunità che noi abbiamo perché la cultura è ormai un tratto salente, soprattutto nella fonte di ricchezza e di sviluppo economico e quindi un'opportunità tra la quale dobbiamo conoscere la maggior attenzione contro questa conferenza di oggi, la prima che viene tenuta dalla nuova organizzazione provinciale e sicuramente è un punto, è un modo per fare il punto sulla situazione e quindi insieme decidere quali saranno le scelte strategiche per la cultura del prossimo senso. Abbiamo ascoltato le eccellenze che abbiamo nel campo del cinema, nel campo della poesia, del teatro, sta a noi mettere insieme queste opportunità con anche dei contenitori culturali che abbiamo eccezionali all'ecce e nel mondo, e la capacità anche di decentrare gli avvenimenti in termini geografici e anche estenderli in un arco temporale più alto. Dobbiamo fare in modo che il talento si possa presentare all'esterno con un cartellone che sia motivo di pubblicità e di promozione del servizio.